Non è più così, no, non è più così che stavo dicendo questo, non è più così che le olive che vengono da fuori o che vengono solamente molite in Italia non sono sempre considerate italiane, saranno 5-6 anni per questa cosa, però a livello l'olio dello l'olio di farlo non è tra l'olio di farlo, non è tra l'olio di farlo, non è tra l'olio di farlo E' l'olio di farlo, per dare un messaggio, scusa Non ciò che vengono a me, non ciò che vengono a me, non ciò che vengono a me Noi siamo disposti a dare un litro di olio per la nostra madre, non ciò che vengono Le dico sempre, e le dò mai un litro perché la nostra mentalità è la mia vita Un litro di olio, per la nostra macchina paghiamo 15 e poi non vogliamo spendere 8, 10 euro per un litro di olio e di grande valida, che è la salvaguardia per la nostra salute. Scusate per il mio amico, noi dobbiamo cambiare la nostra occupa, se no non andiamo da nessuna parte. E soprattutto sta mangiando risonanza. Per quanto riguarda l'olio carico, noi a livello nazionale abbiamo fatto una bella dell'ambito di scoprire, perché più troppo non più rispettare ogni associazione, ma bisogna di sostegno economico, per cui l'olio carico, con una grande valida, se la faccia aveva spazzolizzato, ci può fare. Noi vaccinati all'interno di noi abbiamo fatto una bella, perché l'avamo detto che non è un limite con la nostra filosofia, i nostri contadini, sui vostri territori, tengono olio a teglia, non possono più raccogliere gli amici, perché non sanno a dimettere l'olio. E' un cortesia, andate a prendere l'olio dai vostri contadini. Una sola cosa che vi faccio ai contadini, portate l'olio a traspare l'olio, perché molto spesso l'olio partigianale fatta dai contadini, per chi non lo sa fare, viene trasformato male e non l'ha perduto il pedale. Però è sicuro e di questo non lo posso garantire. Come per i figli, ma anche per i figli, 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 perché anche per i figli, portate la chiesa a fare, perché la stessa cosa vale per i figli. Però andiamo a finire l'olio dai nostri contadini, incogliamo la produsa, a colpivare, perché cosa fanno la vita? Allora, che fanno la vita? Grazie.